La palestra di Cucurano fa acqua da tutte le parti e non è un modo di dire Viene giù dalla copertura come fosse un colabrodo, infradiciando i muri e rendendo l'ambiente anche poco salubre Anche domenica una pioggia abbattente ha messo in ginocchio la struttura Secchi, stracci e olio di gomito sono la regola Ma non bastano, secchi più o meno grandi vengono messi su tutta la superficie di gioco Ma il campo si allaga come fosse una risaia E stamattina si è lavorato di spazzolone per togliere il più possibile l'acqua L'ultimo acquazzone ha riproposto quindi ormai drammaticamente una situazione Che è divenuta insostenibile per genitori, atleti e società sportive Soltanto la buona volontà dei genitori che quotidianamente ogni volta che piove Si sobbarcano dell'incombenza di asciugare e rendere minimamente agibile questa palestra Difatti ci siamo riuniti per denunciare, sollecitare affinché questo scempio abbia a terminare Abbiamo i nostri figli che oramai da anni seguono questi corsi Si trovano così, improvvisamente senza la possibilità di proseguire Perché, come intendo a sottolineare, la palestra è veramente verde in condizioni che sono inaccettabili Oltre all'esasperazione dei genitori e dei dirigenti Chi ne subisce le conseguenze maggiori sono gli atleti e le atlete Che non possono usufruire della struttura per i loro allenamenti come sarebbe giusto che fosse Direi che non è tanto carino avere tutta questa acqua intorno a noi E dobbiamo sempre procurarci dei secchi, degli stracci per sempre asciugare E anche se non abbiamo una palestra in cui allenarci Non potremmo accedere alle nazionali, cioè a delle gare che sono molto vicine Devi sempre evitare pozze d'acqua oppure ti devi sempre fermare perché ti sei bagnato O perché ti puoi far male scivolando E non è un ambiente in cui una palestra dovrebbe di solito avere, dovrebbe essere asciutta Ora l'acquazione di domenica ha fatto esondare anche la pazienza degli utenti Logicamente la situazione è diventata insostenibile da giugno a questa parte Quando sono iniziati parzialmente i lavori e poi sono stati abbandonati E a questo punto siamo tutti in attesa di una soluzione che provenga anche dall'amministrazione Come l'assegnazione di un'altra palestra o di un luogo idoneo per queste ragazze Per poter proseguire e con continuità agli allenamenti